Buon pomeriggio, bentrovati per un nuovo appuntamento con Spazio Salute in diretta come ogni mercoledì. Sono le 16.19, ospite di questa puntata il dottor Aldo Russo, primario dell'Unità di Cardiologia di Casa Sollievo della Sofferenza. Benvenuto. Grazie, buonasera. Argomento della puntata sono le cardiomiopatie. Il nome ce lo suggerisce, si tratta di patologie che hanno a che fare con il muscolo cardiaco, con il cuore, ma diciamolo subito, non parleremo di infarto, quella è un'altra cosa, adesso capiremo invece che cosa sono le cardiomiopatie. Le cardiomiopatie sono appunto un gruppo di malattie che interessano il muscolo cardiaco e che possono comportare una disfunzione ventricolare e che possono poi queste dar adito a una insufficienza cardiaca. Sono molto importanti perché a queste si associa un'alta morbidità e mortalità, ma soprattutto un incremento della morte improvvisa. Ce ne sono di diverse, insomma, diverse tipologie di cardiomiopatie. Noi oggi qui per una questione innanzitutto di tempi cercheremo, come dire, di trattare gli aspetti più significativi rispetto a questo tipo di patologie. Parleremo di cardiomiopatie ipertrofiche e dilatative. Cominciamo proprio con la cardiomiopatia ipertrofica. La cardiomiopatia ipertrofica è caratterizzata da un marcato ispessimento delle pareti del cuore, del muscolo cardiaco, che con una cavità ventricolare che di norma può rimpicciolirsi, proprio perché vi è un marcato ispessimento delle pareti del muscolo. E in genere l'ispessimento interessa prevalentemente i set interventricolari in regione sotto aortico, però meno frequentemente anche in regione medioventricolare, in alcuni casi più rari solamente l'apice del ventricolo sinistro. Le cause di queste cardiomiopatie ipertrofiche possono essere delle cause genetiche. Il 40-60% delle cardiomiopatie ipertrofiche è dovuta ad una mutazione dei geni che elaborano, che codificano proteine per il sarcomero. Il sarcomero è l'unità motoria contrattile del muscolo striato, quindi del muscolo cardiaco in questo caso. Un altro 5-10% di cardiomiopatie ipertrofiche può associarsi a malattie rare, malattie di natura genetica e non, distrofie muscolari, malattie neurodegenerative o altre. Poi resta fuori un 25-30% dei casi in cui la eziologia non si conosce. Queste sono le forme idiopatiche di cardiomiopatia ipertrofica. Quindi prevalentemente cause genetiche per una piccola percentuale anche legate a malattie rare, poi per il resto le cause non sono conosciute. Ma che cosa succede al nostro cuore quando è in atto una cardiomiopatia ipertrofica? Ora, innanzitutto l'alterazione dei geni, abbiamo detto, interessa l'unità contrattile, l'unità motoria che costituisce il muscolo cardiaco e questo è il sarcomero. Il sarcomero, un'alterazione dei geni che codificano le proteine appunto del sarcomero, possono dar luogo ad una alterata generazione di forza contrattile con risposta ipertrofica, una ipertrofia anomala ovviamente, che caratterizza appunto le cardiomiopatie ipertrofiche. Si riconoscono ad oggi oltre 20 geni e sono descritte più di 450 differenti mutazioni che possono comportare cardiomiopatia ipertrofica. Abbiamo anche delle immagini che ci aiutano. Esatto, nelle immagini esattamente una mutazione di uno di questi geni che può interessare o il filamento spesso di cui è costituito il sarcomero di miosina o meno frequentemente quelli filamenti sottili, quelli di attina del sarcomero, possono dar luogo appunto all'insorgenza di una cardiomiopatia ipertrofica. Ci sono dei sintomi, cioè ci sono delle avvisaglie, qualcosa che ci fa capire che possiamo avere questo tipo di problema? Certamente. Diciamo che nella gran parte dei casi la patologia, la cardiomiopatia ipertrofica può essere asintomatica e in tal caso magari la diagnosi può essere fatta soltanto perché il paziente è pervenuto all'osservazione del medico per altre ragioni. Quindi casualmente. Casualmente, esatto. In altre occasioni invece il paziente magari si rega dal medico perché ha una sintomatologia in genere che può andare dalla lipotimia, vertigine oppure addirittura sincope da sforzo. Sincope da sforzo oppure anche un dolore precordiale, una angina, come si verifica nella cardiopatia ischemica, da sforzo perché questa in questo caso è dovuto magari a una discrepanza tra domande e apporte di ossigeno da parte di un cuore ipertrofico. Le cardiomiopatie ipertrofiche poi a loro volta possono essere ostruttive che a mio avviso sono quelle più importanti e non ostruttive. La ostruzione è determinata da un setto ovviamente interventricolare in regione sotto aortico ipertrofico in unione a un movimento sistolico anteriore della mitrale o dell'apparato sottovalvolare mitralico che comporta l'unione di questi due criteri, una ostruzione dinamica, non fissa, in efflusso sinistro, che ovviamente comporta una ridotta agitata di sangue. E la diagnosi come avviene? La diagnosi ovviamente può essere clinica ma soprattutto strumentale. L'esecuzione di un elettrocardiogramma farà evidenziare una ipertrofia ventricolare sinistra, l'esecuzione nello stesso paziente anche di un ecocardiogramma farà evidenziare questo ispessimento delle pareti del ventricolo sinistro, oltre che farci rilevare la ostruzione e misurare anche il grado di ostruzione che si verifica nel tratto di efflusso sinistro. Il tratto di efflusso sinistro in pratica è quella porzione di ventricolo sinistro che congiunge la cavità ventricolare sinistra con la orta dove poi deve essere spinto il sangue in sistole. E questa congiunzione, questa ostruzione, avviene nella fase di contrazione, nella fase sistolica della meccanica cardiaca. C'è anche un altro tipo di diagnosi che è molto importante per questo tipo di patologie, ovvero la diagnosi differenziale. Che cos'è? Sì, una ipertrofia ventricolare sinistra dovuta alla cardiopatia ipertrofica è importante poterla differenziare da altre condizioni di ipertrofia perché c'è una valutazione prognostica diversa, ben più importante nella cardiopatia ipertrofica, meno importante nelle altre patologie. Una di queste, per esempio, può essere una ipertensione arteriosa di lunga data, può dare una ipertrofia ventricolare sinistra. Una valvulopatia, per esempio la stenosi valvolare aortica, può dare ipertrofia ventricolare sinistra, così come anche delle infiltrazioni di sostanze amiloide possono simulare una cardiopatia ipertrofica. Ma quello che è più importante è poter differenziare una ipertrofia ventricolare fisiologica da quella patologica della cardiopatia ipertrofica, appunto per i risvolti prognostici. E quella fisiologica è appunto l'ipertrofia che si verifica nei giovani, nei giovani sportivi, negli atleti che eseguono esercizi fisici, un'attività sportiva a livello competitivo. Fisiologica significa che è legata, è una conseguenza dell'attività, non è una problematica. Invece quando diventa patologica vuol dire che bisogna in qualche modo intervenire. In questo caso lo sport va sospeso. E' certamente, è uno dei consigli da appunto dare al soggetto che pratica sport, magari con cardiopatia ipertrofica, è appunto quello di non praticare l'attività sportiva, sia essa agonistica e sia anche non agonistica. Perché sono patologie anche importanti, cioè possono, tra le cause c'è anche quella di morte improvvisa, diciamo la causa più estrema, no? Esatto. Condizione che si può verificare esattamente una delle manifestazioni cliniche della cardiopatia ipertrofica, oltre che la sintomatologia appunto di ipoperfusione cerebrale, singopangina, eccetera, è proprio la morte improvvisa. L'incidenza di questa nella cardiopatia ipertrofica è del 2, circa per cento dei casi. Noi fra pochissimo, abbiamo ancora un minuto e poi ci fermeremo per una brevissima interruzione, andremo avanti parlando di un altro tipo di cardiopatia, che è quella dilatativa. Anche qui vedremo che i fattori genetici giocano un ruolo, diciamo, importante, fondamentale. Prima di chiudere velocemente questa prima parte, parliamo del trattamento, della terapia che può essere, diciamo, indicata a chi è affetto a questo tipo di problematica. Nella cardiopatia ipertrofica il trattamento farmacologico si avvale di farmaci che tendono a rallentare la frequenza cardiaca. Rallentando la frequenza cardiaca, in pratica, vi è in meno l'avvicinamento della valvola mitrale al setto ipertrofico e quindi si riduce il grado di ostruzione e la sintomatologia. Se ciò non dovesse essere, diciamo, possibile, sufficiente, si può ricorrere alla chirurgia, cioè alla resezione chirurgica del setto ipertrofico, oppure alla legatura chirurgica dell'apparato sottovalvolare mitralico in maniera da ridurre l'ostruzione a livello dell'efflusso sinistro. In altre condizioni si può ricorrere anche alla somministrazione di piccole dosi di etanolo nella coronaria sinistra in maniera da creare una sorta di infarto iatrogeno che andando incontro poi lo spessore del muscolo cardiaco, incontro ad infarto, quindi a cicatrizzazione, si riduce lo spessore e si riduce il grado di ostruzione in efflusso sinistro. Abbiamo parlato della cardiomiopatia ipertrofica nella prima parte, adesso invece parleremo di cardiomiopatia dilatativa. Qual è la definizione di questo tipo di patologia? La cardiomiopatia dilatativa è dovuta e si presenta con una dilatazione della cavità ventricolare sinistra e con un assottigliamento della parete, della stessa cavità ventricolare sinistra che per la verità può interessare anche il ventricolo destro o entrambi. Questa patologia è dovuta a delle condizioni genetiche, altre volte però può essere più frequentemente anche direi a condizioni che possono comportare una dilatazione ventricolare sinistra, la più frequente di questa è per esempio la cardiopatia ischemica. L'infarto del miocardio porta esito ad una dilatazione postinfartuale del ventricolo sinistro. La dilatazione comunque comporta una ridotta funzione del ventricolo sinistro perché appunto i miociti della parete del ventricolo sinistro sono sostituiti da tessuto fibroso, per cui il ventricolo è poco elastico e la caratteristica è appunto una ridotta funzione del ventricolo sinistro che può esitare in una insufficienza cardiaca. È una condizione che si verifica molto frequentemente nei giovani adulti ed è la condizione che più frequentemente pone indicazione al trapianto cardiaco. Quindi abbiamo capito che i fattori genetici, le cause genetiche, che intervengono in maniera significativa in questo tipo di patologie. Ascoltiamo a questo proposito un contributo a cura del dottor Pietro Palumbo, biologo ricercatore del laboratorio di genetica medica proprio di Casa Sollievo della Sofferenza, che ci spiega un po' appunto le cause genetiche che riguardano le cardiomiopatie. La cardiomiopatia dilatativa è una patologia del tessuto cardiaco con alterazioni della contrattilità e dilatazione del ventricolo sinistro o di entrambi i ventricoli. Le cause possono essere sia di tipo genetico, che dovuta ad alterazioni del sistema immunitario, o a precedenti infezioni virali con persistenza dell'agenda infettivo. Ma le cause genetiche sono responsabili di più del 50% dei casi di cardiomiopatia dilatativa. La modalità di trasmissione prevalente è quella di tipo autosomico dominante, in cui il rischio di trasmettere il carattere alterato alla progenie è del 50%. Quando sospettare una forma genetica di cardiomiopatia dilatativa? Beh, quando sono presenti in un nucleo familiare più di due individui affetti o quando un parente di primo grado sia stato colpito da morte cardiaca improvvisa e inaspettata al di sotto dei 35 anni. Ad oggi sono stati identificati più di 100 geni responsabili di varie forme di cardiomiopatie, tra cui la cardiomiopatia dilatativa. È un meccanismo che rende complicata la diagnosi molecolare di pazienti affetti da cardiomiopatia, è l'eterogenità genetica, ossia un medesimo gene può essere responsabile di varie forme di cardiomiopatie, oppure la medesima forma di cardiomiopatia può essere causata da alterazioni in diversi geni. Tra questi troviamo i geni responsabili della struttura del sarcomero, quindi i meccanismi di contrattilità, geni coinvolti nell'organizzazione del citoscheletro, quindi funzioni di resistenza meccanica, canali ionici, quindi eccitabilità del cardiomiocita, oppure geni del DNA mitocondriale coinvolti nella produzione di energia per il corretto funzionamento del tessuto cardiaco. Alcuni di questi geni, ad esempio, sono il gene codificante per la titina, una grossa proteina strutturale che, se mutata e mutazioni che causano una struttura alterata di questa proteina, è responsabile del 25% di casi di cardiomiopatia dilatativa, oppure le lamine nucleari, importantissime per il corretto funzionamento e la corretta organizzazione del nucleo del cardiomiocita, oppure ancora la desmina e l'actina, che sono tra l'altro responsabili di forme di cardiomiopatia ipertrofica, quindi abbiamo in questo caso un overlapping genetico fra varie forme di cardiomiopatia. Qui a Casasollievo, attraverso metodiche di sequenziamento di nuova generazione, effettuiamo l'analisi di oltre 80 geni responsabili di varie forme di cardiomiopatia, tra cui la cardiomiopatia dilatativa, la cardiomiopatia ipertrofica, aritmogena e la non compattazione del ventricolo sinistro. Ad oggi abbiamo reclutato più di 200 pazienti, pazienti che sono stati scrinati attraverso queste metodiche e inoltre il 40% di essi abbiamo identificato mutazioni patogenetiche o verosimilmente patogenetiche. Ciò che ci ha permesso, ciò che è stato possibile attraverso questa analisi, è stato reclutare per questo screening i familiari di questi pazienti e molti di essi sono stati identificati come portatori di alterazioni genetiche responsabili di cardiomiopatia, quindi pazienti genotipicamente affetti ma clinicamente ancora sani. Questi pazienti sono stati inseriti in un protocollo di monitoraggio clinico al fine di controllare e, nei limiti del possibile, prevenire l'insorgenza della malattia. Bene, quindi abbiamo capito anche l'importanza di sottoporsi poi a questo tipo di controlli preventivi che in qualche modo permettono innanzitutto di diagnosticare la presenza di questo tipo di anomalia e poi in quali casi, insomma, è anche possibile intervenire, no? Certo. Da un punto di vista clinico, chiaramente, la valutazione è clinica, è strumentale, soprattutto elettrocardiografica ed è ecocardiografica. L'ecocardiogramma ci farà evidenziare, chiaramente, la dilatazione del ventricolo sinistro, la scarsa funzionalità dello stesso e l'elettrocardiogramma, eventualmente, se ci dovessero essere dei disturbi di conduzione riportati. Ma qualche volta può giungere in aiuto anche la risonanza magnetica che può dimostrare delle ampie zone di fibrosi. Bene, questi criteri sono tutti criteri che ci possono, diciamo, conturre ad una determinata terapia che potrebbe essere salvavita per questi pazienti, perché uno dei sindomi importanti, oltre che l'affanno, la dispnea, che un cuore di dilatato può comportare, è la morte improvvisa, la quale si verifica nel 12% circa dei casi, quindi è un'incidenza abbastanza elevata. Quindi poter prevenire la morte improvvisa, noi in clinica, in ospedale, questo lo si fa attraverso l'applicazione di dispositivi che vengono impiantati in cardiologia in un determinato laboratorio di elettrofisiologia, si impianta appunto il dispositivo che si chiama defibrillatore, le cui dimensioni... Che è quello che stiamo vedendo adesso in immagine. Esatto, esatto. Le vediamo riportate, sono 5-6 cm per 5-6 cm, comunque sono riportate in proporzione al palmo della mano, che appunto, se il paziente dovesse presentare questi criteri appena citati, allora in profilassi primaria va impiantato il defibrillatore. Il defibrillatore con un piccolo filo adesso collegato che raggiunge l'apice del ventricolo di destra è in grado di riconoscere l'aritmia eventualmente in atto e di interromberla. La interrompe con una erogazione di una lieve scarica elettrica che comunque il paziente avverte. E la interrompe. E sono dei veri e propri interventi salvavita, preventivi, no? Esatto, sì, esatto, esatto. Infatti noi in questo caso parliamo di prevenzione primaria. Nel caso invece il paziente fosse stato resuscitato da un arresto cardiaco mediante defibrillazione esterna o massaggio cardiaco, allora va impiantato ugualmente e l'impianto, le linee guida, lo pongono come tassativo, va applicato in prevenzione secondaria il defibrillatore. Consigli che possiamo dare a chi magari appunto il dottor Palumbo ci spiegava come magari se in famiglia ci sono stati casi di morti improvvise di appunto legate a malformazioni cardiache prima dei 35 anni può essere un campanello d'allarme. Ritengo dottoressa che questo è un aspetto molto importante e anche abbastanza nuovo e moderno nella ritmologia cardiaca, cioè quello di una popolazione selezionata di pazienti, cioè pazienti giovani che hanno un'età inferiore ai 35 anni e che presentano le stigmate di un ventricolo sinistro ai limiti alti della norma oppure che è dilatato, oppure che in famiglia vi sia storia di cardiopatia dilatativa o di morte improvvisa, le nuove linee guida appunto propongono di impiantare il defibrillatore che abbiamo visto poc'anzi, non soltanto quando la frazione di aiezione è inferiore al 35% come si consiglia normalmente, ma anche quando questa è superiore al 35%, cioè tra il 35 e il 50%, perché ovviamente si è dimostrata una mutazione. E in questi individui, in questi soggetti giovani, va appunto posta indicazione una valutazione genetica con lo scopo appunto di poter applicare profilatticamente il defibrillatore, ma soprattutto anche per poter trattare l'eventuale insufficienza cardiaca. Benissimo, noi ringraziamo il dottor Aldo Russo per essere stato in nostra compagnia questo pomeriggio. Spazio Salute ritorna mercoledì prossimo. ancora grazie al dottor Russo e buon proseguimento di giornata a tutti quanti in compagnia di Padre Pio TV.